I nostri sentimenti sono i nostri sentimenti, i peccati di cui parla sono i nostri peccati. E Dante ci dice fin da subito, nel mezzo del cammino di nostra vita, la parola chiave è nostra, la storia ci riguarda, la storia parla di noi, ci appartiene in quanto esseri umani, perché la Divina Commedia non è soltanto un viaggio ultraterreno, è anche un viaggio dentro l'animo umano, sino ai confini di ciò che è in noi, e ci riguarda in quanto italiani, proprio per il motivo di cui parlavamo prima, che Dante è un po' l'inventore dell'Italia. Grazie a tutti.